siamo qui con mario matteotti e il suo libro nata l'ombra del castello ce ne vuole parlare prima prima di tutto questo nasce dall'idea dell'alessandro parisi e da lauro galvani io volevo mettere assieme alcuni articoli e che avevo fatto tempo fa con così e cosa e più che altro assieme con quel tutti gli articoli fatti con con il settimanale labusa dell'amico fabio gallas e ne avevo parlato all'alessandro ed alessandro ha detto no o si fa una cosa fatta bene oppure non devi e allora mi ha chiesto di mettere assieme foto articoli di giornale in pratica oltre che essere degli articoli scritti in dialetto prima su così e cosa sull'abusa su facebook e diciamo un po la storia di arco insomma ecco c'è un articolo una foto particolare che è contento che sia su questo libro esposizione chi vuole ma è direi direi le foto delle squadre di calcio perché parto da dai primi anni 71 quindi trovi delle persone che adesso hanno oltre 50 anni tantissime foto mi ritrovo l'amico almino marchi che è stato amico per un periodo dopo dopo un po ci siamo lasciati però diciamo che con l'albino marchi o condiviso gran parte della della gioventù insomma fino compreso le partite di calcio quando giocavo assieme a me quando facevo allenatore e poi tutto il periodo del carnevale per questa è la squadra che ha vinto il campionato nel 1989 dell'olivo olimpia della quale facevo l'allenatore quindi è difficile dire tutte diciamo ecco il libro dove si può comprare allora prima di tutto ringrazio la famiglia taroli che ci ha ospitato stamattina al bar arte mi avevano proposto altri posti ma mi veniva un po di maddestome che andava in quei posti lì il libro potete acquistarlo presso la tipografia la cartoleria andreata in via marconi e presso il tabacchino in via santa caterina della cinzia della del ivan e della chiara questo libro è in dialetto perché diretto ma è molto semplice la in dialetto perché sono nato arco solo al morandè delle biciclette davanti alla villa egea non sono nato a vipitenumare quindi mi era più facile scrivere in dialetto che scrivere in aramaico antico ecco al delà delle battute niente l'avevo fa avevo iniziato per scherzo quindi non è non è che mi senta lo scrittore quindi quello che presenta un'opera letteraria anzi quando mi hanno detto questo o avevo anche un po di paura nel presentarlo perché mi sembrava che un'opera del genere potesse diventare come una cosa personale invece la mia idea era quella e ringrazio sempre sandro parisi era quella di ricordare più arco io sono di arco e quindi ti dico un messaggio che ho ricevuto ieri da un mio amico di rovereto che è venuto appositamente arco a comprare a il libro e mi ha detto penso che ad arco non ci sia persona meglio di te che ama la tua città ecco questo allora è proprio il risultato che volevo ottenere nel fare questo cioè arco cioè son de arco cioè non tutte le altre cose mi avevi legati sopra la schiena insomma grazie